Siete già abbonati all'offerta informativa CenePiù? Oggi vi riportiamo i contenuti della settimana, dal 10 al 15 maggio. Il CenePiù di lunedì è una storia intitolata Io guarita dal Covid a 82 anni, scritta da Maria Nuvolari. Martedì abbiamo pubblicato un articolo di approfondimento dal titolo Merton e l'apocalisse nucleare del XXI secolo, a cura di Mario Zaninelli. Si tratta di un contributo sulle ragioni che promuovono l'adesione dell'Italia al Trattato sulle armi nucleari. Il CenePiù di mercoledì è un articolo di scienza sulla rivoluzione tecnologica e gli effetti sull'ecosistema globale, dal titolo Reti 5G, minaccia o opportunità, scritto da Andrea Galluzzi. Venerdì abbiamo pubblicato La Rassegna Stampa, un podcast che sintetizza l'attualità della settimana. Aggiornamenti sul conflitto israelo-palestinese, la situazione Covid in Italia, le difficoltà sanitarie in India e Colombia e tanti altri temi a cura di Filippo Campoantico. Sabato abbiamo pubblicato un articolo intitolato La normale precarietà del Medio Oriente. Un approfondimento di Michele Zanzucchi sul conflitto tra Israele e Palestina e la situazione di precarietà nella regione. Vi ricordiamo che se siete già abbonati alla rivista Città Nuova potete usufruire di questo servizio per solo 3 euro in più, oppure 5 euro se siete abbonati alla rivista online. Altrimenti potete scegliere di abbonarvi solo all'offerta informativa CenePiù per un totale di 12 euro all'anno, per avere audio, video e approfondimenti di attualità.